Ciao a tutti ragazzi, allora dall'ultimo video che avete visto, sempre ProStars, mi si è rotto lo smartphone, mio fratello visto che lasciamo perdere, questa me la pavi però, allora, ho fatto questo, guardate, non so se si vede ma c'è una crepa enorme, che non si accende più, non si accende più, me l'ha rotto, me ne sto comprando un altro migliore di questo, impermeabile, che il mio compagno, l'avevo uguale a questo, uguale al mio, io con il mio fratello lo abbandonerei, è tipo, è cattivo, non si può fare niente con lui, io non lo sopporto, non gioco mai più con lui, non gli faccio mai più ridere, e se vuole che metta questa maschera che a lui gli fa ridere, non so il motivo, io gli dico no e di andare dalla sua stanza, sennò lo spingo e lo butto per terra e le chiudo la porta chiave. Quindi ciao ragazzi, scrivetemi nei commenti cosa vuoi fare, lasciate un like almeno per far rivivere il mio smartphone, e ciao, vi voglio bene, mio fratello non ne vorrà mai più.